Grande Pikachu, abbiamo vinto! Bel lavoro, Ash. Sembra che tu abbia vinto questa volta. Ma non montarti la testa, perché quando avrò finito con loro, i miei Pokémon saranno molto più forti. Non mi piace come l'hai detto. Già, suonava molto strano. Già, intendi dire che li allenerai, giusto? Certo che li allenerò. Ok, bene. Saranno coinvolti in molti scontri. Con altri Pokémon, giusto? Con i miei pugni. Ok, wow, l'hai detto davvero. A volte con un martello o una pietra di qualche tipo. Ecco, io iniziavo a sospettarlo, ma sì, sì, insomma, tu picchi i tuoi Pokémon. Che beneficio ne trai? Li rende più forti, ok? Non è vero, da dove ti viene questa idea? Ok, allora dimmelo tu, Ash. Di preciso, come fanno i Pokémon a diventare più forti? Quando serve per la trama. E? E con gli scontri? Esatto, quando i Pokémon combattono e non svengono, guadagnano esperienza e con abbastanza esperienza salgono di livello. Sì, ho capito. Quindi se prendo un Chimchar e lo picchi a sangue, ma tipo seriamente, fino a quasi ucciderlo, e poi lo lascio in pace, guadagnerà esperienza. Ah, il discorso ha senso. No, non funziona così, deve essere con altri Pokémon. Guarda, te lo mostro. No, 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 non è necessario. Ma che cazzo? Visto cosa ti dicevo? Ha funzionato davvero. Non ci posso credere. È davvero molto semplice se ci pensi, Ash. È tutto così sbagliato. Aspetta, ma come l'hai scoperto? Scoperto cosa? Come hai scoperto che picchiare i tuoi Pokémon li rendeva più forti? Ma voglio dire, non è che potessi... Saperlo e basta? Ok, ok, abbiamo capito, basta, Cristo. Avevi torto, ammettilo. Sono mortificato. Beh, non puoi dire che non sia efficace. Ma non è necessario farlo. Puoi farli salire di livello semplicemente combattendo con altri Pokémon. Beh, Ash, devi ammettere che è molto più veloce. Cosa? È molto meno lavorioso. Voglio dire, è... Ecco, è efficace. Non dirmi che lo stai prendendo sul serio, andiamo. Forse siamo noi che dobbiamo evolverci. Che diavolo significa? Che ne è stato del far salire di livello i propri Pokémon con amore e del costruire un legame? Beh, dimmi, Ash, quanti campionati ti ha fatto vincere l'amore? Un'altra parola è che anche tu salirei di livello alla grande, amico. Cosa? Sì, insomma, se ti picchiassi. Non mi farebbe salire di livello, sarebbe assurdo. Lo so, stavo solo scherzando, Dio. Beh, non vuoi provarci? No! Andiamo, potrei sempre curarli subito dopo. Potrebbe valere la pena provare. No, questo è... Voglio dire... Io immagino di poter fare un tentativo. Ho una mazzacchiudata, se vuoi. Ma che cazzo hai che non va? Va bene, solo una volta. Ciao! Ok, Jarmender. Mi dispiace, amico. Porca tverna! Ma che cazzo hai fatto? No, no, che cazzo! Oh, no, che cazzo hai fatto? Oh, no, che cazzo hai fatto? È incredibile! Non ti lo fa smettere! Non lo fai! Cazzo!